Decisione opposta da parte dei sostenitori del Montevarchi rispetto a quanto fatto dai San Giovannesi aspettando il derby di domenica alla Curva Sud. Dopo la riunione di ieri sera, un'assemblea con oltre 100 partecipanti, a testimonianza di quanto l'argomento fosse sentito, ha deciso di presentarsi all'evento, allestendo anche la coreografia già preparata nei giorni scorsi. Una decisione che secondo voci di corridoio non sarebbe stata umanime, ma che ha visto prevalere poi la linea di sostegno a squadra e società sotto ogni punto di vista sia per le presenze che sotto il profilo economico, visto che comunque la mancanza di pubblico in Curva avrebbe determinato anche una perdita di diverse migliaia di euro a livello di incasso. A San Giovanni, dove invece è apparso lo striscione e chi entra è complice, l'idea pare quella di accompagnare la squadra alla partenza dal piazzale dello stadio per poi rimanere a casa. Si fa dunque verso un match nel quale l'aspetto scenografico e di Campanile sarà di fatto assente, come è accaduto a parti invertite, anche se per motivazioni estremamente diverse nel 2011.